Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10. L'apertura del notiziario oggi è dedicata alla tavica vicenda legata al piano regolatore generale di Gela. La Commissione Comunale Urbanistica contesta l'operato dell'Aggiunta Municipale sollevando dubbi sulla condotta dell'assessore all'urbanistica Francesco Salinitro. Questa sera sise civica monotematica. Sentiamo. Fibri relazioni politiche in merito alla vicenda tavica del piano regolatore generale di Gela. Ieri nel corso di una conferenza stampa i componenti della Commissione Comunale Urbanistica, Cristiane Malluzzo, Guido Siracusa, Vincenzo Cascino, Antonino Biundo e Salvatore Gallo, hanno sottolineato che l'amministrazione comunale è entrata, gamba tesa, in atti di competenza solo della sise civica. I consiglieri hanno sollevato dubbi sulla condotta dell'assessore all'urbanistica Francesco Salinitro. Lo abbiamo convocato, hanno detto, essere impegnato a spingere affinché fosse il consiglio comunale a valutare osservazioni ed opposizioni. Dopo pochi giorni abbiamo incontrato a Palermo i tecnici che si stanno occupando della procedura del nuovo PRG e veniamo a sapere che l'assessore era andato in visita solo il giorno precedente ed inoltre l'amministrazione comunale sostiene che debba essere la Regione a valutare osservazioni ed opposizioni. Chiaramente non capiamo questa doppia posizione. Noi come intera commissione ci opporremo a questa decisione che è stata presa dalla Regione della trattazione e vogliamo che la trattazione delle osservazioni e delle contradduzioni venga portata qui in consiglio comunale. Ma non si è detto che il piano regolatore generale qualche anno addietro era già stabilito? Con la ripubblicazione, quindi nel periodo di novembre, nel mese di novembre 2015, tutto rientra in gioco. C'è un consiglio comunale che è legittimato dal popolo, la ripubblicazione viene fatta dal comune stesso, quindi dalla persona dell'assessore Salinitro. Si stava rischiando anche di non pubblicare il piano regolatore, quindi con un'enorme perdita sia per il comune che per tutto il lavoro che c'è dietro, ma rientra nuovamente in gioco quello che è il consiglio comunale perché il consiglio comunale può nuovamente entrare nelle decisioni di quelle che sono le linee da seguire nel PRG. Ma quando questo piano regolatore generale finalmente potrà vedere l'attuazione? Allora, le osservazioni e le contradduzioni sono numerosissime, si parla di circa 860 osservazioni da poter analizzare e vagliare una per una. Alcune di queste sono ripetizioni anche di osservazioni fatte con la prima pubblicazione, quindi quasi il 30% potrebbe essere subito scartato. E' ovvio, sono parecchie per poter trattare, però il consiglio comunale è un organo politico legittimato dalla città e quindi è giusto che scelga quella che è l'espansione territoriale ed economica del nostro territorio. I componenti della commissione durante il consiglio comunale di questa sera proporranno un atto di indirizzo che impegni l'amministrazione comunale ad impugnare gli atti al Tarra di Palermo. Non si può spogliare il consiglio comunale di una facoltà indicata dalla legge, hanno detto, senza consentire a noi consiglieri di valutare sia le opposizioni sia le osservazioni al piano regolatore generale. Cambiamo argomento, ci occupiamo dell'indagine della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta, segnalati quattro dirigenti dell'ERSU, denunciati 49 studenti per un danno erariale di 350 mila euro. I ragazzi spostavano la residenza per ottenere benefici. Vediamo. Sfruttando una singolare interpretazione della normativa nazionale a favore della categoria degli studenti lavoratori, universitari catanesi sono riusciti ad ottenere indebitamente cospicue borse di studio tra il 2009 e il 2014. Il meccanismo era semplice. La legge nazionale concede il beneficio allo studente lavoratore che da almeno due anni ha abbandonato il nucleo familiare d'origine e dimostra di avere un reddito da lavoro dipendente. A Catania, invece, bastava il semplice cambio di residenza per reclamare la borsa di studio. È stato il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Caltanissetta, al termine di una complessa attività di polizia economico-finanziaria, a fare luce su quanto accadeva. L'attenzione dei finanzieri si è concentrata sulle domande degli studenti risultati vincitori di borsa di studio nella categoria dei cosiddetti indipendenti per gli anni accademici dal 2009-2010 ad oggi. A differenza delle altre università d'Italia, infatti, secondo l'ente regionale per il diritto allo studio universitario di Catania, ERSU, lo studente che da almeno due anni aveva trasferito anagraficamente la residenza, per esempio per i suoi nonni, anche se non produceva reddito proprio, si considerava svincolato dalla famiglia d'origine che lo avrebbe collocato in una fascia di reddito troppo alta per poter beneficiare degli aiuti economici, semplicemente perché entrava a far parte di un nuovo nucleo familiare con reddito non prodotto dallo studente, notovolmente inferiore. Così c'era chi variava la residenza presso la seconda casa dei genitori, al mare o in montagna, assieme al nonno pensionato, chi si trasferiva verso i nonni, assieme ad un cugino o un fratello al fine di ottenere entrambi la borsa di studio, chi già aveva la nonna in casa con i genitori e trasferiva comunque la residenza nella stessa via, ma ad un vecchio numero civico nel quale risultava ancora l'anziana signora. Disattendendo le norme di legge, l'Erso ha infatti distribuito indebitamente migliaia di euro a studenti non aventi requisiti, sottraendoli quindi ad altri soggetti realmente meritevoli attraverso un'errata compilazione dei bandi annuali che disciplinavano le modalità per partecipare alla segnazione dei benefici economici. L'attività aspettiva ha permesso di segnalare alla Corte dei Conti quattro dirigenti dell'Erso che con le loro condotte hanno provocato un danno erariale per oltre 350.000 euro, di cui si sono avvantaggiati 86 studenti in relazione a borse di studio comprendenti rimborso spese, alloggio, premi laurea e rimborso della tassa diritto allo studio. 49 gli studenti denunciati alla Procura della Repubblica di Catania per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato è falso. A quanto ammontano i costi che il Comune affronta per la pulizia dell'area mercatale il servizio rientra tra quelli previsti dal capitolato sottoscritto tra Comune e Tecra per quanto concerne la raccolta dei rifiuti. A chiederlo con una interrogazione al consigliere comunale Giovanni Panebianco dopo che il dirigente al settore ecologia non ha proceduto al pagamento di una fattura da 200.000 euro presentata dalla Tecra per servizi aggiuntivi espletati nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno, al di fuori quindi di quanto previsto dal capitolato per importi pari a 200.000 euro. Il dirigente non avrebbe proceduto al pagamento delle fatture poiché non esiste alcuna autorizzazione. Panebianco chiede anche di sapere se vi sono state da parte dell'amministrazione comunale nei mesi di novembre e dicembre 2015 richieste di esecuzione di servizi aggiuntivi extra capitolato in relazione al servizio di raccolta rifiuti e in caso affermativo quali siano state o se ve ne sono ancora in corso da chi siano stati emessi gli atti autorizzativi all'espletamento di tali servizi a quanto ammontano i costi di tali servizi aggiuntivi a quanto ammonta il costo settimanale o mensile per la pulizia dell'area mercatale. Una lettera al Presidente della Regione Rosario Crocetta ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana e all'Anci l'ha scritta il Sindaco di Gela Domenico Messinese Nella missiva il primo cittadino chiede non tanto una nuova sanatoria per coloro che occupano abusivamente gli alloggi IACP quanto una modifica alla norma che permetta a coloro i quali per un bisogno reale hanno occupato un alloggio popolare di potere ugualmente fare richiesta ed essere inseriti in gradatoria potendo concorrere equamente senza togliere niente a nessuno Una legge, scrive il primo cittadino, è giusta quando tiene conto dei bisogni delle persone e non si può giocare con la disperazione di tante famiglie che realmente hanno bisogno di un alloggio popolare Bisogna consentire in modo equo a tutti quanti di poter fare richiesta di una casa popolare e di essere giudicati per i bisogni di oggi e non per gli errori di ieri Secondo una stima del sindacato nazionale unitario inquilini ed assegnatari in Sicilia almeno 6.500 alloggi popolari sono occupati senza titolo Nonostante siano abusivi, gli occupanti versano in molti casi una somma mensile che viene considerata come una sorta di canone forfettario di godimento Lo fanno perché, soprattutto se hanno i requisiti previsti dalle leggi sugli alloggi popolari sperano di poter rientrare in eventuali sanatorie L'ultima risale al 2001 e prevedeva appunto che se si rientrava nei limiti di reddito e di condizione familiare si poteva riscattare l'immobile Ma valeva solo per le occupazioni precedenti al 2001 Da allora ad oggi vari tentativi di ripetere la sanatoria sono stati regolarmente impugnati dal commissario dello Stato e recentemente una norma dell'ultima finanziaria regionale è stata bocciata in Commissione Bilancio Le province di Caltanissetta e Catania presentano dopo Palermo la percentuale più alta nell'isola pari al 23% che corrisponde rispettivamente a 658 alloggi occupati su 3.722 e a 2.901 su 9.499 Una situazione esplosiva soprattutto sotto il profilo dell'ordine pubblico qualora alla questione non si ponga la dovuta attenzione Il critico d'arte Vittorio Sgarbi interviene sulle bellezze archeologiche di Gela Sentiamo Gela è una città che stupisce il mondo per la quantità dei suoi reperti archeologici sempre di grande bellezza Parole e musica del critico d'arte Vittorio Sgarbi durante un incontro avuto con il sindaco Domenico Messinese Il primo cittadino si è detto d'accordo con il noto critico d'arte sulla necessità di far conoscere ad una più ampia platea il patrimonio monumentale, artistico e culturale di Gela Bisogna prendere 10 opere importanti e portarle a Milano ha suggerito Sgarbi per far sì che il nome della città entri in un grande circuito e faccia capire che Gela merita di essere visitata All'incontro hanno preso parte anche gli assessori comunali Fabrizio Morello e Francesco Salinitro Tra gli argomenti si è discusso anche di politica Sgarbi ha ricordato il suo impegno a Gela contro la costruzione del comando dei vigili del fuoco in prossimità delle mura timoleontee e della sua contrarietà all'ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo quando propose di realizzare in città un museo dell'arte contemporanea Il sindaco di Gela e Vittorio Sgarbi si sono ripromessi un nuovo incontro a breve termine per approfondire le strategie necessarie ad esportare l'immagine positiva di Gela nel mondo La città è difficile che ha delle cose bellissime, un museo straordinario Io pensavo che Lombardo vuole fare un museo dell'arte contemporanea a Gela Fai un grande museo di archeologia che è la cosa che uno vuole vedere a Gela Io tra l'altro sono un padrino di un momento importante della città perché quando Crocetti era solo consigliere comunale di opposizione mi chiamò, era un ragazzo umile, si capiva che era inadeguato anche fare consigliere comunale però insomma con un certo entusiasmo mi chiese di difendere le mura megalitiche dalla possibile caserva dei Vigili del Fuoco Io fece di tutto e non la fecero Quella è una cosa importante Dopodiché sono venuti in altre occasioni E' una città che ha molto bisogno Quindi occorrerà immaginare che un sindaco faccia quelle 5 o 6 cose che restituiscono Gela alla sua dignità di grande città Ed è importante nei musei soprattutto, nelle attività culturali ma a volte alla storia E' una città che stupisce il mondo per la quantità dei suoi reperti archeologici sempre di grande bellezza E' stata aperta la nave greca l'altro giorno L'avete fatto bene Poi bisogna prendere 10 opere importanti e portarle a Milano in maniera tale che come si potrebbe fare a Gela che il nome di Gela entri tra le vidente Basta poche però che facciano vedere che merita e che uno vada a vederla E' una città difficile e quindi richiede l'impegno di un sindaco entusiasta e che non si faccia mettere nell'angolo da due vette Nell'ottica di una semplificazione procedurale AGEA già dall'anno scorso è inserito nel regime di piccoli agricoltori tutti quei produttori agricoli che percepiscono un contributo inferiore a 1.250 euro Questi produttori hanno l'obbligo di presentare la loro richiesta di contributo al proprio centro di assistenza agricola entrano non oltre il 29 febbraio prossimo Bene, ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale concluso a Niscemi il corso sfuguliari sull'antica tecnica utilizzato da sempre dalle massaie casalinghe di Niscemi per realizzare le classiche empanate piruna della tradizione locale Il corso organizzato dalla condotta Slow Food Niscemi Terre del Maroglio, fiduciario Giuseppe Stimolo è stato ottenuto dalla docente, esperta e socia Franca Di Federico 5 gli allievi partecipanti Giuseppina Spinello, Serena Ragusa, Eleonora Torre, Di Niscemi Angela Di Natale, Simone Caffa di Gela Ha ripreso vita grazie al cantiere party di Eclettica la pista di pattinaggio da 15 anni chiusa Famiglie con bambini a seguito, giovani e meno giovani si sono ritrovati domenica pomeriggio all'impianto sportivo di via Rochester per trascorrere un paio di ore in spensieratezza e conoscere da vicino il progetto Street Factory Eclettica ideato da un gruppo di giovani nisseni e vincitore del concorso di idee Boom Polmoni Urbani potremo finalmente presentare ufficialmente per la prima volta alla cittadinanza nel suo complesso il progetto che intendiamo andare a realizzare ovvero la Street Factory Eclettica proprio qui nei luoghi che vedete dove stiamo attrezzando una piattaforma di aggregazione sociale multifunzionale che tratterà intanto i campi dello sport soprattutto degli street e urban sport quindi tutto ciò che ha rotelle, tre contro tre e via dicendo ma soprattutto anche arte e allestiremo dei giardini urbani degli orti urbani, delle aiole didattiche diamo degli spazi legali in cui i ragazzini possono venire e venire a dipingere quando vogliono liberamente e imparare così l'arte in questo caso, lo sport nell'altro caso o cultura didattica grazie all'attività che andremo a integrare un progetto di riqualificazione della pista di pattinaggio che si appresta a diventare un polo attrattivo sportivo culturale finanziato e promosso dai deputati 5 Stelle in collaborazione con Farm Cultural Park di Favara è grande orgoglio da parte mia perché in quanto nisseno insomma avere dei ragazzi così intraprendenti è stato davvero bello anche per me e mi rendo orgoglioso il fatto che sia stato tutto ciò reso possibile dal taglio dei nostri stipendi abbiamo messo a disposizione 360.000 euro in tutto il totale abbiamo premiato tre progetti, i primi tre che si sono classificati la Zera del Vallo, Caltanissetto e Catania e finalmente si sta partendo e quindi oggi è finalmente la realtà delle cose che diventa qualcosa che è sotto gli occhi di tutti sono felice che Caltanissetta con un gruppo di giovani, giovanissimi così in gamba, abbia tirato fuori una proposta così interessante il mio appello è a tutti i misseni di volere bene a questi ragazzi di stare accanto a loro, di fare in modo che questo progetto possa crescere sviluppare e diventare una vera occasione per Caltanissetta un impianto la cui gestione è stata affidata dal comune per nove anni all'associazione eclettica da un lato noi avevamo questa volontà di riprendere uno spazio dall'altro lato appunto c'è stata questa associazione che aveva un bel progetto in mente c'è stata la possibilità di boom polmoni urbani per cui insomma tre coincidenze fortunate e poi soprattutto il fatto che evidentemente il progetto era meritevole è stato considerato il primo addirittura ad avere il finanziamento per cui tutto quanto ha funzionato in maniera positiva per la città e quindi speriamo che da questo momento in poi proprio l'associazione possa ben interpretare quelle che sono le esigenze dei giovani di Caltanissetta e portare questo spazio a essere vissuto, vivacizzato e reso un punto di incontro e di attività sportive ma non solo Adesso la nostra consuetà rubrica in breve Il 27 febbraio prossimo alle 11 l'associazione di promozione sociale Ship Lab di Gela presenterà ad una rete di possibili partner il progetto Nice to Pitchu una competizione di idee che mira di incentivare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nel comprensorio di Gela La presentazione si terrà presso Palazzo Mattina in corso Vittorio Emanuele 411 Durante l'incontro saranno approfondite alcune tematiche riguardanti l'innovazione e i benefici di sviluppo territoriale oltre ad una panoramica sui vantaggi fiscali derivanti dall'investimento su imprese innovative e start-up L'evento rappresenta un'occasione imperdibile per gli aspiranti imprenditori di presentare la propria idea di business ad un pubblico di potenziali investitori interessati a sostenere progetti vincenti riguardanti le seguenti aree tematiche tecnologia, smart city, turismo sociale, agroalimentare e arte Dal 25 febbraio al 17 marzo prossimi si terrà a Gela presso i locali della Chiesetta San Biagio e presso la Pinacoteca a Palazzo di Città il terzo corso di formazione del progetto Life più Leopoldia dal titolo La sostenibilità nel paesaggio agricolo del Golfo di Gela Il corso di 50 ore ha un approccio multidisciplinare e pratico affrontando temi concreti per la gestione, progettazione e conduzione degli impianti serricoli e la promozione di un'agricoltura sostenibile interverranno docenti dell'Università degli Studi di Catania ed esperti del settore La FIDAPA International di Gela promuove il progetto internazionale Dai luce alla pace a cura della past presidente Angela Incardona Il progetto viene portato avanti a livello internazionale nei 98 paesi dei 5 continenti dove la FIDAPA è presente Il progetto si propone di educare le nuove generazioni alla pace alla comunicazione, al dialogo interculturale Il progetto è rivolto ai ragazzi della terza media e vede coinvolti docenti di lettere ed educazione artistica Dovranno essere prodotti un disegno che può essere individuale o collettivo con tecniche diverse, tra cui carboncino, pennarello, matita, in basso un pensiero di pace ispirato dal disegno I disegni migliori, sei per ogni scuola, dovranno pervenire entro il 20 aprile prossimo e verranno valutati da una commissione competente I tre disegni ritenuti più significativi verranno premiati nella giornata conclusiva che si terrà nell'ultima decade di maggio prossimo Sono previsti premi in denaro Sono le aperte le iscrizioni al primo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana 2016 organizzato dal Comitato di Gela, aperto a tutti coloro che hanno il desiderio di spendere il proprio tempo e le proprie energie al servizio degli altri Età minima 14 anni Il corso si compone di 7 moduli a carattere teorico pratico per una durata complessiva di 18 ore durante le quali verranno fornite le nozioni base sul primo soccorso, BLS sulla diffusione del diritto internazionale umanitario nel quale è racchiusa la storia della Croce Rossa e sulla protezione civile Le iscrizioni sono aperte fino alla mezzanotte del 25 febbraio prossimo per informazioni 328 2477 645 Proseguono gli appuntamenti in occasione della 82esima stagione concertistica gelese Domenica 28 febbraio prossimo alle 19 al Palazzo Pignatelli concerto del trio Echi Armonici con Maria Provenzano al pianoforte Angela D'Amato al flauto e Giuseppe Cumbo all'Oboe L'iniziativa porta la firma dell'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra Ottima affermazione per due giovanissimi scacchisti gelesi nell'ambito del ventesimo festival internazionale che si è tenuto a San Giovanni la punta in provincia di Catania Chiara Morello, 12 anni e Igor Migliorisi, 11 anni tesserati per l'Associazione Sportiva Dilettantistica Gela Scacchi presieduta da Margaret La Cognata hanno conquistato rispettivamente il primo posto assoluto nel torneo Open C e il nono assoluto e primo della categoria Under 16 nel torneo Open B Per Migliorisi il piazzamento ottenuto gli è valsa la conquista della categoria di seconda nazionale Prossimo appuntamento il 13 marzo a Gela per il torneo provinciale assoluto Siamo all'informazione cinematografica sono due film in programmazione al cineteatro l'antidoto di Macchitella a Gela alle 17.30 sarà proiettato Franni con Richard Gere alle 19.30 e alle 21.30 invece Joy domani e giovedì prossimi sempre all'antidoto sarà portato in scena servizio in camera di Emanuele Giammusso l'orario di inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30 per informazioni 09338 22707 oppure 338 7143 293 sabato 27 alle 21.15 domenica 28 febbraio alle 17.15 invece al teatro comunale Eschilo Flavio Brazzaventre Guiaiello e Agostino Zumpo porteranno in scena la bisbetica domata per informazioni 0933911892 oppure 345 5880 580 è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale grazie per aver scelto anche oggi la nostra informazione vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti potrete trovarli sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato grazie e buon proseguimento di giornata sul nostro canale grazie a tutti 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 grazie a tutti